Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla protesta d'oltranza dei lavoratori di Elettroclima e della nuova X Gamma destinatari di lettere di licenziamento situazione a dir poco esplosiva, massima solidarietà del Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina Monsignor Rosario Gisana Seconda notte all'addiaccio per i lavoratori dell'Elettroclima e della nuova X Gamma che protestano con blocchi in via Generale Cascino ed in via Mare all'ingresso della raffineria Eni di Gela Gli operai sono destinatari di lettere di licenziamento, una situazione, non ci stancheremo mai di dirlo che potrebbe esplodere da un momento all'altro, si tratta di lavoro, si tratta di sfamare le proprie famiglie e con il lavoro non si scherza Il Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana sta seguendo con particolare attenzione ed apprezzione quanto sta accadendo La Chiesa è al fianco dei lavoratori e l'ho detto ieri ai nostri microfoni manifestando immensa solidarietà ai lavoratori Mi sto muovendo assieme ai sindacalisti per incontrare il Prefetto Questo è stata una mia precisa intenzione perché si possa trovare assieme, pensare assieme una strategia che in questo momento non riesco a cogliere se non chiaramente in questo sperato confronto Io non li abbandonerò, l'augurio non è un augurio astratto Non li abbandonerò, cioè che significa? A parte la vicinanza, anche fisica evidentemente Purtroppo in questi giorni da quando è cominciato lo sciopero non sono riuscito a poter intervenire ma è già andato, so che sono andati alcuni miei sacerdoti Io lo farò al più presto Però concretamente significa che li sosterrò anche da un punto di vista materiale Quindi li aiuterò per quanto è possibile Chiederò anche un aiuto alla Caritas perché possiamo essere vicini a loro per quello che effettivamente in questo momento desiderano Questi sono i due auguri che io vorrei rivolgere a loro Ma a questo punto aggiungo un'altra cosa importante che a mio parere non è legata soltanto a questo che ho detto Noi dobbiamo assolutamente tentare una strada perché si riprenda il lavoro Capisco che questo è molto lungo Ci vuole tempo, ci vogliono momenti di riflessione Però desidero che tutta la comunità cittadina ma soprattutto dove dovrebbero essere e spero che lo saranno capofila i preti e le comunità ecclesiali e di conseguenza tutti quanti per poter riflettere in maniera seria e definitiva una chance e possibilità di lavoro perché questo è quello a cui dobbiamo tendere Ed un documento indirizzato alle più alte cariche dello Stato e alla deputazione regionale su quanto sta accadendo a Gela è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta dal Sindaco di Gela Domenico Messinese dal Vice Sindaco Simone Siciliano e dai segretari generali regionali e provinciali di Cigel, Cisl e Will si chiedono da subito misure straordinarie al fine di contenere il mutato scenario occupazionale attraverso ammortizzatori sociali e straordinari la copertura di chi è uscito fuori dal mercato del lavoro fino all'avvio dei cantieri previsti dal protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014 ed ancora strumenti urgenti per la sospensione degli oneri fiscali a carico dei lavoratori ed ancora procedure prioritarie per la finalizzazione delle autorizzazioni dei progetti di bonifica sia in ambito regionale che nazionale altro punto è l'interlocuzione diretta con il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Della Rio il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Gianluca Galletti il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ed il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti al fine di aprire un tavolo di concertazione in riferimento alle attività dell'accordo di programma per la riqualificazione e la riconversione industriale di Gela relativo all'indirizzo politico strategico che lo stesso Governo vuole dare al futuro della città sul documento scritto oggi e inviato alle più alte cariche dello Stato abbiamo raccolto la testimonianza del sindaco Domenico Messinese è stato schilato un documento che è il documento della città questa mattina insieme alle forze sindacali all'amministrazione, alla regione siciliana abbiamo redatto una lettera aperta da inviare al Governo nazionale al Governo nazionale per dire a Renzi che a Gela i problemi non sono stati risolti i problemi ci sono e si stanno presentando si stanno presentando in tutta la loro drammaticità quindi in modo forte la città di Gela sta mandando questo documento in modo congiunto per far sapere che Gela ha intenzione di riprendersi il proprio futuro e che i problemi si devono risolvere da subito intanto Lucio Greco, leader di un'altra Gela risponde al Governatore Rosario Crocetta che ieri alla nostra emittente aveva dichiarato che quanto sta accadendo a Gela nelle ultime ore non può passare osservato i patti con Leni, ha detto ieri Crocetta non erano questi i lavoratori, dice invece Greco non si difendono a parole ma con i fatti il Governatore Crocetta eviti quindi di ricorrere ai soliti stratagemmi propagandistici di cui è maestro e si dimostra invece capace di prendere decisioni coraggiose tali da salvaguardare seriamente i lavoratori affermare così come ha fatto che Leni non avrebbe rispettato i patti lo fa apparire, dice Greco come un ingenuo innocente preso in giro dall'azienda petrolchimica cosa si aspettava, povera anima candida dopo quella firma a capestro con cui ha accettato tutte le condizioni imposte da Leni revochi a Leni, dice Greco le concessioni all'estrazione ordinando anche la chiusura dei pozzi vedrà che Leni scenderà a più miti consigli se non hai il coraggio di prendere queste decisioni ci faccio un piacere, dice ancora Greco stia zitto e continui a farsi i bagni a Castel di Tusa Lucio Greco poi si rivolge al sindaco di Gela rispetti il programma dei 5 Stelle grazie al quale è stato letto e si batta anche per una questione di coerenza e di rispetto assunto nei confronti degli elettori per la chiusura delle trivellazioni se poi non se la sente tanto vale, dice ancora Greco che si dimetta e faccia amministrare il vice sindaco siciliano che dei 5 Stelle non ha completamente nulla almeno in questo modo chiude la nota si fa maggiore chiarezza e di quanto sta accadendo negli ultimi giorni nelle ultime ore a Gela se ne è parlato ieri sera nel corso dell'approfondimento giornalistico Agora condotto in studio da Franco Gallo il dramma dei 72 lavoratori dell'indotto Eni licenziati il dramma di una città in ginocchio un albero di Natale addobbato con le lettere di licenziamento come emblema della puntata di ieri sera andata in onda su Canale 10 di Agora un albero di Natale amarissimo e che purtroppo si candida a diventare l'emblema del Natale più nero nella storia recente di questa martoriata città il tutto mentre la politica quella nazionale e quella regionale in particolare rimane sorda alle grida di dolore che provengono da questo lembo di Sicilia l'abbandono di Eni deciso da Renzi e dai suoi compagni di cordata del PD sta lasciando sul terreno gelese solo disastri quelli ambientali con un territorio baciato dal buon Dio ma distrutto da anni e anni di inquinamento indiscriminato quelli sulla malmessa salute dei cittadini gelesi in una città dove si registrano numeri paurosi di malformazioni neonatali e patologie tumorali ed ora anche quelli economici e sociali con una crisi senza precedenti ed Eni che con l'avallo di una politica becera e lontana anni luce dai bisogni di questo popolo vessato tenta di svignarsela alla chetichella Agorà ha acceso ancora una volta i suoi riflettori su questa drammatica realtà tutta a tinte gelesi con tre lavoratori, oramai divenuti ex della ditta Elettroclima presenti in studio e che hanno chiesto solo e soltanto una cosa ossia a che santo votarsi per un aiuto concreto che risolva la loro gravissima situazione personale e familiare con un vice sindaco che si è commosso ed ha commosso per la sensibilità con la quale sta affrontando il tema sono dovuto andare dagli operai a tutti e due gli ingressi oltre per portare la solidarietà perché è dovuta da chi è nelle istituzioni anche per cercare di supportarli psicologicamente e moralmente e a me mi rimane, diceva, impressa in mente l'immagine di uno degli operai che era lì con suo figlio un figlio che ha la stessa età di mio figlio e lui mi dice io mi passo il Natale qui con mio figlio fino a quando non mi risolvete il problema bene io in tutto il tragitto non sapevo se rimanere a Gela o continuare il percorso che avevo deciso di fare con Domenico per andare a affrontare altri problemi che sono sempre inerenti ai lavoratori sempre inerenti ai problemi del territorio alle bonifiche e quant'altro io con l'immagine non riesco a tornare a me la dalla testa e ti fa onore che ti si luminano gli occhi in questo momento ti fa onore questo perché penso che come me pensi ai nostri figli no ti posso dire che se questi ragazzi passano il Natale lì noi sapevamo che già li abbiamo passati al lavoro perché sapevamo quali erano gli ostacoli burocratici che ci avrebbero portato a questo punto vedi questi operai sono stati silenti si sono venuti a protestare in consiglio comunale vengono puntualmente da noi ma vengono per dialogare perché vogliono conforto però adesso la voce del gelese non può rimanere così bassa e vi posso assicurare e quindi lo dico da amministratore ne parlavamo oggi con Domenico che se a noi non arrivano le soluzioni da chi ha il potere decisionale quella voce non sarà più così silente si sentirà talmente forte che a Roma se lo ricorderanno per un bel po' di tempo ma che ha anche fatto intendere che come dicono a Catania a Sant'Agata se la sono già portata e che ha permesso lo scempio non può ergersi ora persino a censore censore è un cavolo che si vadano piuttosto a nascondere certi personaggi che hanno firmato consapevolmente questa agonia della loro stessa città a completare il parterre degli ospiti di Agora il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta e l'ingegner Fabrizio Lisciandra consulente della presidenza della regione siciliana nella stesura del protocollo Eni del 6 novembre che ha sancito la fine della raffinazione a Gela non è mancata poi la sempre pungente scheda di Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo domani sera con la replica integrale che andrà in onda alle ore 21 su Canale 10 oppure sui nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10 Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata per l'ultima puntata del 2015 con nuovi ospiti ed argomenti che riguardano Gela e i Gelesi Cambiamo argomento chiudiamo la pagina dedicata a quanto sta accadendo nelle ultime ore nei pressi della raffineria di Gela parliamo di cronaca giudiziaria minacce e intimidazioni ai possibili concorrenti nella raccolta della plastica e controllo dello spaccio di droga a Gela tutte accuse confluite nel blitz antimafia a Redi Vivi nelle ultime ore però sono arrivati i primi provvedimenti d'annullamento delle ordinanze di custodia cautelare hanno lasciato le carcere Francesco Giovane ed il 26enne Rosario Trubia cade l'accusa di associazione mafiosa per Pasquale Lino Trubia che però rimane in carcere a seguito delle accuse legate al giro di droga nei giorni scorsi aveva lasciato il carcere Pasquale Andrea Trubia è stato il loro legale di fiducia l'avvocato Nicoletta Cauchi a rivolgersi al giudice del riesame di Caltanissetta e di nove persone denunciate per vari reati il bilancio dell'attività di controllo da parte della polizia di Gela gli agenti hanno segnalato un 24enne ed un 23enne perché avrebbero coltivato piantine di marihuana ai fini dello spaccio nel corso dell'attività gli agenti inoltre hanno sequestrato ai due giovani 12 grammi e mezzo di marihuana essiccata un bilancino di precisione e materiale usato per la coltivazione delle stesse piantine un ragazzo di 21 anni è stato segnalato per furto aggravato commesso Gela lo scorso 30 novembre per un 29enne ed un 19enne la segnalazione è scattata per danneggiamento a mezzo incendio e di evasione domiciliare invece deve rispondere del reato appunto un uomo di 34 anni un quarantenne invece è stato denunciato per guida senza patente ed un tunisino per minaccia aggravata e detenzione abusiva di munizionamento fra i segnalati c'è anche un agrigentino di 37 anni perché avrebbe gestito una casa famiglia senza la relativa autorizzazione all'uomo è stato sequestrato un appartamento che si trova in una palazzina di via Belgio angolo via Cicerone nel quartiere Caposoprano presi di aderire alla maratona Teleton ha una valenza e un significato importantissimo non soltanto per i ragazzi ma anche per gli insegnanti direi di sì da un lato c'è l'importanza di sostenere economicamente la fondazione Teleton e quindi la ricerca contro le malattie rare la distrofia muscolare in particolare però d'altro canto c'è l'occasione per poter introdurre i ragazzi ad un mondo che a volte in virtù insomma della loro giovane età loro probabilmente non conoscono e che invece quanto si trovano ad affrontare quello delle persone che hanno problemi perché spesso le malattie rare portano a gravi disabilità loro invece affrontano con grande sensibilità e forse si pongono nei confronti di queste situazioni con entusiasmo maggiore di quanto gli adulti non riescono a fare l'importante però è che un'iniziativa del genere perché oggi è la manifestazione conclusiva ovviamente di tutte le iniziative che noi abbiamo portato avanti passi sempre attraverso una riflessione fatta in classe insieme agli insegnanti e tra di loro tra i ragazzi stessi e così è stato perché in realtà oggi si celebra soltanto il momento conclusivo ma è almeno da un mese che i ragazzi in classe diciamo sono stimolati a riflettere su questo e poi a realizzare tantissime attività perché hanno c'è stato il mercato del giocattolo dei giocattoli usati ma anche dei giocattoli realizzati da loro e poi ovviamente sono stati venduti e il ricavato poi ovviamente è andato a Teleton e tanti oggetti che loro hanno utilizzato ecco i ragazzi hanno partecipato anche mettendo a frutto tutta la loro creatività un preludio alle feste di Natale quindi all'insegna della riflessione e della solidarietà certo è importante perché ogni anno la manifestazione viene organizzata proprio in questo periodo è certamente un motivo per iniziare questa riflessione che poi porterà al Natale e quest'anno in particolare che è l'anno giubilare il giubileo della misericordia è anche una riflessione un'occasione per poter fare una ulteriore riflessione continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale mostra di presepi vita di Gesù di Francesco buon vissuto fino al 10 gennaio pattinaggio su ghiaccio eventi mostra di presepi albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita presepi artistici e fino al 15 dicembre nella chiesetta San Biagio mostra dell'artigianato femminile creative Natale 2015 seconda mostra di presepi presepi in comune realizzata dalle scuole locali promossa dall'associazione turistica a Proloco Gela si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio al Palazzo di Città sono previsti intrattenimenti e degustazioni l'ingresso è libero dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 20 e 30 vogliamo divertirci molto successo di pubblico e di partecipanti alla sesta edizione di Corri con Papà Natale promossa dalla associazione Green Sport presieduta da Giuseppe Valetti tantissimi ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione che si svolta sul corso principale un appuntamento annuale che richiama sempre l'attenzione soprattutto dei curiosi un'affluenza numerosissima di oltre 800 bambini con i rispettivi genitori papà che accompagnano i bambini in una festa festa di Natale e che Babbo Natale omagerà a tutti i bimbi questa occasione di condividere un regalo fatto dei loro papà è un'emozione unica per lo sport per lo stare insieme e sicuramente uno dei più beri regali che avranno per Natale Gela è pronta per accogliere una festività natalizia del genere come quando accade nelle città del nord con la Baby Run o la Baby Santa Claus Run che si svolge a Bolzano dove ci sono oltre cento oltre ventimila partenti Mostra d'arte contemporanea mediterranea a cura di Salvatore Parla Greco si tiene oggi alle 18 nei locali del Museo Archeologico regionale di Gela l'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma preseduta in Sicilia da Maria Ventura sarà presente tra gli altri Salvatore Gueli soprintendente ai beni culturali di Enna e in edicola e lo vediamo il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro l'indotto si sta trasformando in una polveriera con evidente disinteresse dell'Eni che con la sua decisione di chiudere la raffineria ha messo in ginocchio un'intera città Filippo Guzzardi firma l'approfondimento d'apertura della prima pagina Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto rincara la dose e chiama in causa l'impalpabilità del governo Crocetta e del sindacato a tutti i livelli ancora un servizio di Filippo Guzzardi che mette a nudo la faida che sta allogorando il PD di Gela dove si fronteggiano le diverse anime del partito a pochi giorni dal congresso cittadino due richiami importanti in prima pagina uno sulla 37esima giornata del donatore Adas a firma di Nello Lombardo l'altro di Lucrezia Ferro sulle iniziative extracurriculari messe in campo dal liceo classico Eschilo che si conferma scuola d'elite da segnalare una nota politica di Elio Cultraro sull'inefficienza della giunta messinese ed un'analisi sull'apertura del giubileo a firma di Gianni Virgadaula ed infine lo sport con i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio di eccellenza e promozione chiude il giornale la pagina degli annunci economici questi i titoli più importanti del Corriere di Gela da oggi in edicola ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità benvenuti seconda parte del telegiornale il terzo circolo didattico di Gela diretto da Angela Tuccio organizza per martedì 15 dicembre prossimo l'evento apro le mie finestre al mondo rivolto a tutta la cittadinanza nei suoi plessi Santa Maria di Gesù e Benedettine dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17 gli ospiti saranno accolti da mini guide ed accompagnati lungo un percorso che li porterà a visitare le aule 2.0 aumentate dalla tecnologia ed assistere dunque alle attività che la scuola attua e a conoscere i nuovi progetti e tesi a realizzare al meglio le azioni del piano nazionale scuola digitale ora del codice che mira ad un'educazione informatica sbarca al museo archeologico regionale di Gela appuntamento visto per domani dalle 9.30 alle 13 l'evento gratuito che negli anni passati si è svolto nelle scuole con ampia partecipazione di studenti è stato organizzato da Coder Doio Gela e da Google Developer Group Gela i partecipanti di ogni età saranno coinvolti nello scoprire la storia del nostro territorio prima visitando il museo e poi riportando nel mondo virtuale dei videogiochi quanto appena appreso e ora parliamo di sport calcio big match domani al presti il Gela riceverà la visita del Dattilo Noir vincere per Biancazzurri avrebbe un effetto dirompente per l'alta classifica intanto il club preseduto da Angelo Tuccio ha tesserato il centrocampista Sebastiano Liuzzo Scorpo 18 anni ed il difensore Dario Giammanco di 17 anni Simone Delotto è andato in prestito al Macchitella Gela vediamo è la partita da vincere a tutti i costi non ci sono altre strade da percorrere il Gela domani ha un solo obiettivo si chiama successo i tre punti avrebbero un effetto dirompente sul proseguo del campionato di eccellenza quando manca poco al giro di Boa i Biancazzurri fischio d'inizio previsto per le 15 riceveranno la visita del Dattilo Noir al presti si sfideranno quarta contro seconda in classifica divise da soli due punti ecco perché vincere sarebbe importantissimo finora davanti al pubblico amico il Gela ha sempre fatto bene in sei partite cinque vittorie ed un pareggio un vero e proprio bunker il Vincenzo Presti l'abbiamo definita nei giorni scorsi la madre di tutte le partite anche perché la formazione del Dattilo fino alle 15 di domenica scorsa era l'unica squadra imbattuta del girone poi è arrivata la sconfitta interna col Mazzara in settimana il tecnico dei giolesi Toto Bruculeri ha catechizzato a dovere i suoi ragazzi in merito all'importanza che riveste il match di domani mai più ha sottolineato l'allenatore momenti di smarrimento così come è accaduto domenica scorsa in casa del Castelbuono ricordiamo che il pari degli ospiti dopo il gol di Nassi è giunto a pochi minuti dalla fine della contesa bisogna essere concentrati dunque fino alla fine intanto in casa Biancazzurra nelle ultime ore ci sono stati movimenti di mercato in entrata ed in uscita sono arrivati il difensore centrale Gerry Russello il terzino Valt Resposito ed il giovane Liuzzo sono andati via Gona e Pira non sarà della partita di domani lo squalificato Scerra Bruculeri però potrà disporre di Caci e Floridia non ce la farà invece tre piedi per la partita di domani il costo dei biglietti è il seguente 8 euro in tribuna e 5 euro in curva le donne in tribuna pagheranno 5 euro e nel campionato di promozione invece domani trasferta per l'Atletico Gela i giornossi di Giuseppe Misiti dopo aver fermato sul pari domenica scorsa la capolista Nissa saranno di scena in casa del Canicatì l'impegno non è dei più facili considerato che gli agrigentini vogliono fare punti denanzi al proprio pubblico al fine di tallonare le squadre che li precedono in ottica playoff in settimana in casa l'Atletico Gela è arrivato il centrocampista Felice Mezzasalma arriva le grandeggezze Gela appuntamento al teatro comunale Eschilo ieri concerto di Francesco Cafiso che Fabiola Polara ha intervistato vediamo Francesco Cafiso la musica nel sangue scorre proprio nelle vene quando hai capito che questa poteva diventare oltre che una passione una professione per la vita in realtà non mi sono mai posto il problema nel senso che io ho iniziato quando ero piccolissimo avevo sette anni mi sono affacciato al mondo del jazz grazie al mio maestro e soprattutto sono stato molto fortunato perché sono nato in una famiglia che ha sempre assecondato le mie passioni in particolare questa grande passione che è quella per il jazz ho espresso il desiderio di voler imparare a suonare il sassofono mio padre me ne ha comprato una e da lì è partito tutto perché dopo poco tempo sono entrata a far parte dell'orchestra jazz del Mediterraneo che era una delle realtà più importanti in Sicilia che tra l'altro era solita fare insomma collaborazioni con alcuni tra i musicisti più importanti al mondo dopodiché ho conosciuto Winton Marsalis e poi non mi sono più fermato perché sono diventato leader dei miei gruppi e insomma passo dopo passo sono arrivato qui oggi che cosa ti ha dato e che cosa ti ha tolto la musica? non mi ha tolto nulla anzi la musica ha semplicemente arricchito e reso migliore la mia vita nel momento del massimo successo comunque all'inizio della carriera ti è tornato in mente qualcuno che magari un giorno ti disse ce la farai? ma guarda in questo momento mi ricordo di un americano che per la prima volta mi vide suonare a scoglitti lui dopo avermi ascoltato mi ha regalato un dollaro e mi disse che appunto mi avrebbe portato molta fortuna e che probabilmente mi avrebbe rivisto in America dopo tempo ci siamo rivisti in America e quindi insomma ricordo con molto piacere questo evento poi ovviamente ci sono tantissime persone che mi hanno insomma augurato il meglio e che all'inizio insomma mi hanno detto che sarei andato lontano così è stato e quindi mi fa piacere quando li rivedo e ci incontriamo per i miei concerti tu sei un po' il portabandiera di questa terra e vai fiero orgoglioso delle tue origini ma questa terra ti ha mai ferito? sono convinto che questa terra potrebbe dare molto di più potrebbe offrire molto di più io giro il mondo insomma mi capita fortunatamente di andare dappertutto e di portare la mia musica in giro sono convinto che la Sicilia sia una terra ricchissima e che se noi siciliani fossimo capaci di sfruttare tutte le potenzialità di questa terra saremmo sicuramente il posto più ricco al mondo perché già lo siamo per insomma tutto quello che ci ritroviamo che di storico abbiamo e tutto il resto quindi se fossimo noi più bravi nel gestire tutto questo saremmo i primi in assoluto e gli appuntamenti col jazz continuano giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato l'inizio degli eventi lo ricordiamo è previsto per le 21 per informazioni rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 ci sono anche due numeri telefonici 0933 91 1892 e 345 5880 580 e rimaniamo al Teatro Eschilo dove questa sera anzi oggi alle 17 e 15 questa sera alle 21 e 15 si darà un appuntamento teatrale si tratta di Natale in casa a Cupiello sul palco Enrico Guarneri la regia è di Antonello Capodici e Leone nel Basilico il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Machidella a Gela sono tre gli orari vi ricordiamo 17 e 30 19 e 30 e 21 e 30 e lunedì 28 dicembre alle 21 la compagnia teatrale Antidoto porterà in scena Nabbriscola una commedia in tre atti di Tiziana Guarneri la regia è di Giancarlo Bella abbiamo concluso anche per oggi vi auguriamo un buon fine di settimana appuntamento a lunedì